faffa è malato accade si ritrova in un letto d'ospedale non è solo la mamma si è assentata solo un momento e lui inizia a parlare con il suo vicino di letto è un ragazzo giovane che lavorava in campagna subito i due diventano amici insieme parlano si divertono e a volte fanno spuntini giocano con la palla tra un letto e l'altro e un giorno inventano il gioco della mappa ognuno deve disegnare una città e poi la confrontano per vedere le cose diverse ma belle che hanno disegnato faffa inizia e disegna la città di parigi disegna la tour eiffel e nascosto nel fiume c'è un tesoro da scoprire il suo vicino di letto disegna la città di londra in cui nella torre del big bang c'è nascosto un indizio per proseguire verso un'altra città alla ricerca dell'oggetto nascosto in ogni città c'è un oggetto misterioso l'indizio del big bang porta in sicilia nella valle dei templi dove all'interno di una statua trova una chiave rosa con inciso l'immagine di un orago arrivano in sardegna e sulla spiaggia era stato costruito con la sabbia uno strano castello di forma ottagonale faffa e il suo amico insospettiti cominciano a scavare vicino al castello di sabbia quando a un certo punto trovano una scatolina che contiene la bussola e poi un foglietto misterioso con scritto se la bussola bene userai in un'altra città arriverai faffa afferra la bussola che inizia a tremare a un tratto si ritrovano in una barca in mezzo al mare afferrano i remi e incominciano a remare e dopo un paio di giorni tra fatica e fame incontrano un'altra nave ci salgono a bordo dove li porteranno improvvisamente appare una ciuma di pirati che con loro partono alla scoperta di terre lontane e tesori dopo alcuni giorni di navigazione arrivano sull'isola sperduta dove incontrano un gruppetto di piccoli indiani gli indiani erano buoni con faffa il suo amico e con la ciurma gli indiani raccontano che in passato erano dei sudditi mandati dal re del regno dall'altra parte dell'oceano per sconfiggere il mostro marino dell'isola che li tormentava da tempo ma non ce l'hanno ancora fatta faffa scopre che anche in ospedale può incontrare nuovi amici e scoprire nuovi giochi e scoprire le tante città giuste del mondo in cui la regola principale è stare vicini gli uni agli altri aiuta a non avere paura